Il mitocondrio è, voglio dire, il punto centrale, è quello che ci dà l'energia. Il mitocondrio è quello che mi dà l'ATP, quindi la moneta contante. Se questo si spegne, si spegne l'organismo. Quindi tutto funziona, se noi abbiamo un blackout si blocca tutto, insomma. Quindi la prima cosa che ho fatto, partiamo dal mitocondrio. Il mitocondrio, soprattutto, mi aiuta a individualizzare i farmaci che io, da buon omiopata, da unicista, cerco sempre di individualizzare il farmaco di fondo. Io dico una cosa, ognuno di noi ha un suo refreno, ha una sua canzone, canta sempre la stessa canzone. Devi capire di quel paziente che cosa realmente vuole dalla vita.